Ok, dovremmo essere in diretta, fatemi controllare, fatemi vedere. Non riesco a capire se la diretta è partita oppure no. Vediamo, quando vado in diretta da StreamYard, ok sì, è partita, eccomi qui. Perfetto, perfetto, è partita la diretta quando sono con StreamYard, ci sono sempre dei ritardi nella diretta, non è sincronizzata perfettamente. Vabbè, vedo che state entrando, quindi la diretta è partita. Allora, buonasera a tutte, benvenute all'interno di questa nuova diretta, di questo venerdì sera. Come va? Come sta andando la vostra settimana? Ciao Sandra! Ok, allora vedo che state entrando, ma dato che io sono in ritardo, io vado un po' di fretta. Poi dopo, successivamente, lascerò spazio alle domande, perché in realtà la diretta di questa sera è una diretta puramente informativa, nel senso che ho preparato giusto quattro slide per farvi vedere nel concreto perché la diretta si chiama la bufala del cioccolato fondente, quindi devo giusto farvi vedere delle cose, fare un po' di ragionamenti e poi lascerò spazio alle domande, quindi faremo una sorta di diretta chiacchiericcia, all'interno della quale parleremo del cioccolato fondente, oppure se avete altre poi domande, me le fate dopo. Quindi io vado avanti con la diretta e poi dopo leggo quelle che sono commenti, quelle che saranno domande e quant'altro. Ciao Barbara, ciao Anita, ciao a tutte, guerriere e nonna e benvenuti all'interno di questa diretta. Qui sempre Federica, educatrice alimentare e personal trainer, autrice di Le diete sono inutili e Stop fame nervosa e creatrice di protocollo guerriera vincente, nonché il primo percorso di rieducazione alimentare e online coaching in Italia, ormai copiato spudoratamente da chiunque. Allora, io inizio questa diretta, vi condivido giusto due slide, non sono slide troppo lunghe, semplicemente mi servono perché in casa non ho della cioccolata e quindi, o meglio, non ho le barrette intere di cioccolato e quindi ho preparato queste slide giusto per farvi vedere tutte delle cose che adesso andiamo a vedere. Allora, vediamo se, vediamo, 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 le sta caricando, sta caricando le slide, buonasera Anita, ciao Alina, dovrei farla sentire a mio marito, bene, falla sentire oppure dopo, dopo gliela fai rivedere, ciao Lucia, perfetto, allora, ecco qui, adesso vedete le slide, ok, perfetto. Allora, la bufala del cioccolato fondente e scoprirete perché ho deciso di chiamare questa diretta così una volta, insomma, che vi mostro con i fatti quello che, insomma, vi devo dire. Allora, partiamo dal presupposto che finora, o meglio, fino a qualche tempo fa, esistevano fondamentalmente tre tipi di cioccolati, cioccolato al latte, cioccolato bianco, cioccolato al latte e cioccolato fondente. Da poco è uscito anche questo cioccolato rosa, molto buono, a me piace tantissimo perché ricorda il cioccolato bianco, ma con un sapore un po' particolare, ma all'interno di questa diretta parleremo principalmente dei tre cioccolati, quindi non andrò a parlare del cioccolato rosa perché non c'è nulla da dire, che è un cioccolato come tutti gli altri, solo che è stata scoperta questa formula, tra virgolette, chimica, questa formula che permette di ricevere questo colore rosa, ok? Quindi non è un cioccolato artificiale, non è un cioccolato fatto con coloranti e quant'altro, è proprio un tipo di cioccolato rosa, ma non ne parleremo all'interno di questa diretta. Qui voglio focalizzarmi sul farvi capire perché il cioccolato fondente non è dimagrante, non ha poteri magici, non è da prediligere a tutti i costi, eppure all'interno delle diete ve lo ritrovate sempre, cioè quando fate una qualsiasi dieta vi ritrovate il tipico pezzettino di cioccolato 85% da poter mangiare dopo cena. Ma capiremo che in realtà tra cioccolato al latte, cioccolato bianco e cioccolato fondente cambia ben poco. Lo scoprirete guardando questa diretta. Io intanto vedo che ci sono delle nuove donne che guardano questa diretta, vedo ad esempio Lucia, Manuela, Angela, Laura, Patrizia, Svitlana. Bene, bene, bene. Ok, ora non leggo più i commenti, altrimenti non vado più avanti. Allora, io qui vi riporterò le informazioni nutrizionali per 100 grammi di prodotto. In questo caso qui parliamo del cioccolato bianco. Come potete vedere, e tutto poi vi verrà spiegato tra poco, 100 grammi di cioccolato bianco, come possiamo vedere, apportano 584 calorie, che, devo dire la verità, non sono pochissime, però ci riferiamo a 100 grammi di prodotto, quindi una barretta sana di cioccolato bianco. Ma chi è che mangia una barretta intera di cioccolato bianco? È molto difficile, anche perché il cioccolato bianco è ricco di zuccheri, è pieno di zuccheri e dopo un po' disgusta anche. Come possiamo vedere, apporta quasi 40 grammi di grassi e 52 grammi di zuccheri. So che questa parte è un po' noiosa, ma seguitemi attentamente, ascoltatemi attentamente, altrimenti poi non capite il perché il cioccolato fondente è una bufala. Cioccolato al latte, per 100 grammi abbiamo meno calorie del cioccolato al bianco, abbiamo 558 calorie per 100 grammi, 35 grammi di grassi e 53 grammi di zuccheri, anzi 50 grammi di zuccheri. Qui ho fatto un errore, poi nella slide più avanti capirete. Mentre, per quanto riguarda il cioccolato fondente, all'85%, quindi il classico cioccolato fondente che viene dato nelle diete, nelle diete viene propinato solo il cioccolato fondente. Vuoi mangiare il cioccolato? Bene, ma deve essere fondente, almeno all'85%. Ma, come possiamo vedere, anche se in realtà la foto è un po' piccolina, me ne sto rendendo conto adesso, 100 grammi di cioccolato fondente all'85% apportano quasi 600 calorie, perché parliamo di 597 calorie. 597 calorie, di cui 12 grammi di zuccheri. Arriviamo a noi. Quindi, abbiamo detto che il cioccolato bianco apporta 584 calorie, di cui 52 grammi di zuccheri. Il cioccolato al latte, abbiamo detto che apporta 558 calorie, di cui 50 grammi di zuccheri. Qui c'è stato un errore, i grammi non sono 3, ma sono 0, quindi 50 grammi, non 53, ma ci interessa ben poco, perché la differenza è poca. E il cioccolato fondente, all'85%, apporta 597 calorie, di cui 12 grammi di zuccheri. Come potete vedere, c'è una bella differenza tra il cioccolato bianco, le calorie del cioccolato bianco e le calorie del cioccolato fondente, e tra le calorie del cioccolato al latte e del cioccolato fondente. Parliamo, nel caso del cioccolato al latte, di 40 calorie in meno, 39 calorie in meno, rispetto al cioccolato fondente. E, se andiamo a soffermarci anche sui grassi, notiamo che nel cioccolato bianco abbiamo 40 grammi di grassi. In quello al latte ne abbiamo 35 e in quello fondente ne abbiamo 51, 51 grammi di grassi. Quindi, perché il cioccolato fondente è più calorico? Perché apporta più grassi rispetto agli altri due tipi di cioccolato, il cioccolato bianco e il cioccolato al latte. Ecco perché è più calorico. Ma perché succede questo? Perché, cioè, quindi, come mai il cioccolato fondente contiene meno zuccheri, ma è più calorico? Perché quello che dovete sapere, che probabilmente non sapete, è che nelle tavolette di cioccolato fondente viene aggiunto, normalmente, non è ovviamente una cosa che fanno tutti, ma normalmente viene aggiunto, oltre al cacao, che prende il nome anche di pasta di cacao o massa di cacao, viene aggiunto anche del burro di cacao. E come vi fa capire il termine burro, il burro che cos'è? È un grasso. Quindi, all'interno del cioccolato fondente, più e anzi, quando in una tavoletta di cioccolato avete una percentuale di cacao molto alta, dato che viene aggiunto anche il burro di cacao, trovate maggior calorie e un maggior apporto di grassi saturi. Ma perché viene aggiunto questo burro di cacao? Per un semplice motivo, che nel passato, quindi anni e anni fa, non riuscivano a dare una consistenza tale da permettere al cioccolato di diventare una tavoletta, fin quando non hanno scoperto che andando ad utilizzare il burro di cacao si formavano quelle che adesso sono le tavolette di cioccolato, quindi quelle che adesso prendete al supermercato, quelle che avete ricevuto ieri con la Befana, per chi ha ricevuto la calza. A questo punto è abbastanza facile capire perché, l'ho spiegato prima, più è elevata la percentuale di cacao contenuta in quella determinata tavoletta di cioccolato, e più di solito il cioccolato è calorico. Quindi, quando ora tolgo le slide e continuo a voce, le slide mi servivano per mostrarvi i numeri, perché altrimenti se avessi iniziato a parlare di numeri qui, dicendovi il cioccolato bianco apporta 580 calorie, quello al latte ne apporta 550, quello fondente ne apporta 600, vi sareste perse tutte e mi sarei persa anch'io, ovviamente, perché tutti questi numeri, insomma. Però, qual è il succo del discorso? Il succo del discorso è che, purtroppo, quando si segue appunto una classica dieta, il classico schemino, vi viene proposta come alternativa al dolce questo cioccolato fondente, perché vi viene spacciato da alcuni come una cosa, un alimento dimagrante, una cosa che fa dimagrire, è adatta alla dieta. E, se dal punto di vista degli zuccheri, ovviamente, il cioccolato fondente, dato che il cacao, la pianta di cacao, no? È amara, non è dolce, no? Contiene pochi zuccheri. Che stavo dicendo? Mi sono persa. Ah, più è alta la percentuale di cacao, come dicevo anche prima, e maggiore non si hanno zuccheri, ok? Quindi, da un lato, è vero, il cioccolato fondente apporta molti meno zuccheri rispetto a un cioccolato al latte, ma apporta molti più grassi e, di conseguenza, molte più calorie, molti più grassi saturi rispetto ad una normale tavoletta di cioccolato al latte o cioccolato bianco. Quindi, con questo non vi sto dicendo non mangiate il cioccolato fondente, perché se vi piace, ben venga, mangiate pure il cioccolato fondente, ma non dovete aver paura di una barretta del cioccolato bianco o al cioccolato al latte. Io vedo donne che sono terrorizzate dal mangiare il pezzettino di cioccolato bianco. Perché sono terrorizzate? Perché pensano che il cioccolato bianco faccia ingrassare, che sia più calorico, che faccia male, quando in realtà, come avete potuto constatare da questa diretta, il cioccolato bianco paradossalmente apporta meno calorie rispetto a quello fondente perché contiene una percentuale di cacao molto, molto, molto più bassa rispetto al cioccolato fondente. Poi è normale, allora, prima di dire questa cosa, è normale che né il cioccolato fondente, né il cioccolato al latte, né il cioccolato bianco fanno ingrassare. Mi raccomando, non esistono cibi buoni, non esistono cibi cattivi, ma è normale che se si mangia un'intera barretta di cioccolato al latte, si mangiano più barrette di cioccolato al latte durante il giorno, più il pranzo, la colazione, la cena, è normale che nel lungo periodo si tende a metter su peso. Però, questo fatto di non saper resistere ad una barretta di cioccolata vi deve far riflettere. Cioè, se una persona perde il controllo davanti ad una barretta di cioccolato, non deve non comprare più la barretta di cioccolato, perché non comprando più la barretta di cioccolato non fa nient'altro che privarsi e quindi non fa nient'altro che scatenare quel desiderio infinito di voler mangiare la barretta al cioccolato. No? Piuttosto, se una persona perde il controllo di fronte una barretta di cioccolato e se la trova davanti e la deve per forza mangiare tutto, altrimenti ha quella vocina nella testa che continuamente dice mangia, 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 piuttosto deve focalizzarsi sul cambiare il dialogo interno, sul migliorare il rapporto con il cibo e sul capire che non sarà il pezzettino, la striscia, due strisce, quello che volete di cioccolato bianco al latte fondente che sia a far ingrassare. Anche perché poi parlandoci chiaramente quando anch'io seguivo le diete io ho mangiato, compravo, l'ho comprato una volta a dir la verità, il cioccolato fondente al 99%, io non so se l'avete mai assaggiato ma è più amaro del caffè, cioè è normale che mi passa la voglia di mangiare il cioccolato, sto mangiando una tavoletta che tutto sa tranne che di cioccolato, cioè tutto sa ma viene proprio non voglio dire lo schifo, è brutto rivolgersi così nei confronti del cibo, però viene proprio non ti viene proprio voglia di mangiare il cioccolato fondente al 99%, molto meglio mangiare il cioccolato al latte, il cioccolato bianco, il cioccolato con le nocciole, quello che più insomma ti piace senza esagerare, senza perdere il controllo ma mangiarlo tranquillamente senza sensi di colpa, questo è molto più sensato da fare soprattutto perché poi non ti fa vivere con quella cosa di desiderare continuamente dei dolci, questo desiderio di voler mangiare sempre il dolce, aver sempre voglia di dolce, di star lì a cercare sempre quella cosa dolce, tutte queste cose qui. lo mangio per nervoso ecco Manuela questo non va bene perché mangiare per nervoso un alimento ti porta poi a viverlo male cioè arrivi a un punto in cui vivi male il fatto di dover cioè il cioccolato pensi che sia quello la causa del tuo metter su chili e quant'altro e vivi male anche se dovessi mangiare un pezzettino di cioccolato che magari non lo so non era previsto e quant'altro e soprattutto quello che devi sapere è che cioè ragione in realtà quando tu mangi per emozioni mangi perché sei spinta dalla rabbia o sei spinta dalla tristezza stai andando a rafforzare un comportamento negativo cioè stai andando a rafforzare emozione negativa tra virgolette perché le emozioni non sono né positive né negative stai andando a rafforzare o meglio a a creare questo comportamento emozione negativa tra virgolette rabbia uguale aspetta uguale cibo arriva l'emozione arriva la rabbia arriva la noia uguale mi finisco la tavoletta di cioccolato e ogni volta che tu metti in atto questa cosa questo comportamento lo stai andando a rafforzare e quando rafforzi un comportamento crei una nuova abitudine associ un'emozione al cibo non esci più a meno che non decidi di cambiare quelle che sono le tue abitudini e di dissociare lo sfogare l'emozione nel cibo perché se sei nervosa trova un'altra cosa da fare perché l'essere nervosi cioè il mangiare il cibo perché sei nervosa non ti porta da nessuna parte perché se in un primo momento ti dà sollievo la cosa di mangiare ti fa star bene mentre finisci la tavoletta di cioccolato sei nervosa sfoghi la tua rabbia sulla tavoletta di cioccolato e insomma ti senti bene questa situazione di star bene questa situazione di benessere è una situazione momentanea che nel momento in cui vai poi a ci pensi un attimo razionalmente torni torni un attimo in te pensi ma che cosa ho fatto subentrano i sensi di colpa ti senti in colpa ti butti giù ti parli male ti dici che sei una fallita ti dici che fai schifo ti dici tutte queste brutte cose che non fanno nient'altro che farti star peggio e spingerti in un vortice che è come un criceto che cammina corre sulla ruota no? non so se avete mai avuto un criceto o se sapete che i criceti hanno una ruota nella loro gabbia e di continuo sono lì che corrono 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 fanno sempre la stessa cosa e si trovano sempre nello stesso cibo è la stessa cosa quindi non bisogna sfogare le proprie emozioni nel cibo perché non portano da nessuna parte cioè le emozioni se tu se tu sei nervosa parlo con te Emanuela ma in realtà non ce l'ho direttamente non è nulla di cattivo nei tuoi confronti ok? ci mancherebbe altro però se tu sfoghi la rabbia sei arrabbiata perché si è rotta la macchina no? eh ho capito mangi ma la macchina è rotta cioè se non prendi ti metti in macchina oppure fai venire il meccanico la macchina sarà sempre rotta quindi non ha senso che tu ti arrabbi e mangi piuttosto qual è la soluzione affinché tu possa sbollire questa rabbia chiamare un meccanico e farti aggiustare la macchina hm? stesso discorso vale per tutte le altre emozioni se sei triste perché è successo un qualcosa all'interno della tua giornata che ti ha fatto star male ok? cerca di risolvere quella sfida a me non piace chiamarli problemi io i problemi li chiamo sfide perché il problema è proprio un termine negativo che ti porta a mettere dei paletti davanti a te e a non andare avanti io ho un problema ti blocchi ho il problema punto mi blocco ti blocchi perché non vedi soluzioni quando in realtà di fronte a una sfida qualsiasi sfida sia qualsiasi c'è sempre una o molteplici soluzioni il discorso è che se si affronta la sfida rifugiandosi nel cibo non si vedono alternative perché c'è quel brutto circolo vizioso che bella notizia odio il cioccolato fondente vabbè Sandra come come biasimarti d'altronde il cioccolato fondente ripeto soprattutto quello al 99% è amarissimo cioè io capisco che per una questione di zuccheri si consiglia il cioccolato fondente per una questione di zuccheri perché ripeto il cioccolato bianco apporta veramente tanti zuccheri ma se a te non piace il cioccolato fondente perché devi mangiare per forza quello tanto non sarà la striscia di cioccolato di cioccolato al latte o di cioccolato bianco il problema il problema è se te mangi tutta la tavoletta ogni giorno e allora lì può essere un problema soprattutto se poi si segue un'alimentazione tutta squilibrata tutta sbilanciata e si mangia tantissimo a dismisura preferisco preferisco a lato con la nocciola è vero che schifo così ho sempre voglia di dolce allora la voglia di dolce la perenne voglia di dolce è data da continue restrizioni e privazioni nel senso che quando si seguono le classiche dietine le diete con i bibitoni tra l'altro io devo dire questa cosa perché poi voi lo sapete io sono tranquilla sono calma indiretta però poi veramente alcune di voi fanno proprio girare le cosiddette per non essere volga allora voi lo sapete e se non lo sapete ascoltatemi adesso voi lo sapete che noi di Guerriere in Forma con il metodo Fespa siamo contro le pillole i bibitoni le goccine per bibitoni intendo sostitutivi del pasto ma se voi credete nelle pilloline o nei bibitoni ma che ma siete liberi di andare cioè io non concepisco giusto questa parentesi poi torno a dire quello che stavo dicendo però io non concepisco queste persone che si permettono di disturbare i nostri consulenti dicendo che loro prendono il bibitone e si trovano bene ma allora prenditi il bibitone e vai via tanto cioè non venderemo mai non parleremo mai bene di pillole o bibitoni ma non perché ci stiamo inventando che fanno male o che non servono a nulla ma ci sono anche degli articoli scientifici a supporto di ciò che diciamo quindi è inutile che cercate di fare cosa non si sa e di lamentarvi che poi parliamo male dei bibitoni ma voglio dire andate altrove andate dal 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 coach del benessere e fatevi dare il bibitone ma non rompete le scatole a noi soprattutto tutti i nostri consulenti che lavorano da mattina a sera e fanno il possibile per le nostre clienti e per tutte le donne insomma che in questi giorni stanno assillando o meglio stanno non assillando ma stanno come dire bloccando intasando quello che è il numero verde e quello che è il whatsapp dei nostri consulenti per l'offerta che c'è in corso fino al 18 gennaio cioè io veramente non capisco guardate queste persone cosa ci fate nelle mie dirette se volete il bibitone andatevene altrove perché il bibitone qui non lo avrete mai punto e che cacchio io veramente non devo mettermi così adesso voglio stare così sembra che ho il faccione se mi metto così però non fa niente facciamo così io così sto comoda avete visto ho cambiato sedia anche se questa non è quella definitiva perché ne deve arrivare un'altra ok quindi ultima volta che lo dico se volete i bibitoni noi non parliamo di soluzioni magiche quindi bibitoni andate da Herbalife andate da chi volete voi fatevi venire i problemi al fegato ma non venite da noi punto e non è diffamazione sono articoli scientifici ci sono andate su PubMed cercateli articoli scientifici a conferma di ciò ne ho parlato nella scorsa diretta quindi non rompete se volete i bibitoni scusate a tutte le altre donne che hanno capito che i bibitoni sono inutili però io devo fare assolutamente queste premesse perché purtroppo ci sono queste persone che non sappiamo cosa vogliono però vanno a disturbare e a far perdere tempo i nostri consulenti allora mi stai descrivendo mentre parli ah il discorso del 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 cioccolato di sfogare le emozioni sul ci perché poi mi sono persa volevo dire qualcosa però mi sono persa quindi magari se mi ricordo lo dico l'altra sera stavo nervosissima una dietro l'altra 15 cioccolatini poi sensi di colpa sì Manuela ma questo è il circolo che si instaura per via delle diete delle privazioni perché più più ti privi più vivi con questi sensi di colpa che ti portano poi a vivere male il rapporto con il cibo e con chi ti sta accanto stai sfatando tanti miti che mi hanno inculcato nelle infinite diete il metodo mi incuriosisce molto io ti scrivo ma non mi rispondi mai perché Maria Grazia a me non esce alcun messaggio magari prova a riscrivere la domanda e ti rispondo è così che la pensavo mi buttavo nel cibo e pensavo che era la mia via d'uscita dal dolore invece mi sono ritrovata con chili in più adesso riesco a mangiare con piacere senza sentirmi in colpa grande Patrizia grande Patrizia io ti capisco perché in realtà è una cosa particolare che poi racconto nel mio secondo libro che uscirà a breve che in realtà è un le diete sono inutili versione 2 un nuovo insomma libro parlo parlo insomma di questa cosa ma anche io sfogavo il dolore nel cibo però poi ti rendi conto che fondamentalmente se c'è un qualcosa che ti fa star male dentro di te e devi cercare di capire cos'è più che altro devi cambiare l'abitudine di associare quel comportamento al fatto di mangiare come dicevo prima cioè è tutta una questione di comportamento che viene rafforzato man mano che si fa quell'azione come quando non lo so vi lavate i denti tre volte al giorno improvvisamente volete passare a lavarvi i denti quattro volte all'inizio vi sforzate consciamente di mettervi un timer di insomma far qualcosa per lavarvi i denti ogni quattro volte cioè quattro volte al giorno nel momento in cui lo fate per venti giorni al ventunesimo giorno vi lavate i denti quattro volte in modo automatico perché avete installato questo nuovo comportamento all'interno della vostra mente in coach io li vendevo i bibitoni la cosa peggiore che abbia mai fatto mi sono fatta travolgere ora li vedo e mi viene da vomitare guarda Laura il discorso che facevo nella scorsa diretta ora non voglio ripetermi ma ho fatto una diretta sull'oscura verità dietro le aziende di bibitoni che ha dato molto fastidio alle venditrici di bibitoni perché sono sconcertanti verità vabbè quello che ho detto all'interno di questa diretta è proprio che il compito o meglio quello che vuole il distributore è proprio reclutare altre persone quindi prima ti fanno provare i prodotti e poi dato che all'inizio i prodotti funzionano perché fai la fame praticamente in questa posizione sembra che io abbia una faccia enorme dato che all'inizio i prodotti funzionano perché fai la fame praticamente mangi 170 calorie per pasto è normale che poi una persona che prova il prodotto per una settimana e viene travolta da tutte quelle persone esaltate che ti dicono che il bibitone fa dimagrire e l'infuso ti fa avere energia è normale che poi anche tu finisci per diventare una distributrice però l'importante è che ne sei uscita fuori da quel circolo di esaltati che tra l'altro ora giusto una piccola giusto una piccola tips poi qualcuno mi ha ricordato che stavo parlando di che cosa stavo parlando stavo parlando di di dolci della voglia di dolce qualcuno me l'ha ricordato ma adesso non trovo il messaggio torno a parlare della voglia di dolce di come si staura l'infuso che vi fa energizzare in teoria è tutto in effetto placebo è perché contiene la caffeina anche il caffè vi dà energia è la caffeina è proprio il potere della caffeina che vi fa energizzare non l'infuso a base di erbe che poi parleremo anche delle erbe e del fatto che questi prodotti naturali non è che siano poi tanto sani come ci vogliono far credere ma ne parleremo in un'altra diretta sono in menopausa la soluzione di perder peso la soluzione per perder peso c'è sia che tu sia in menopausa sia che tu non abbia la tiroide sia che tu abbia oltre 70 anni il discorso è che devi insomma seguire quello che è un tuo percorso perché ovviamente hai una tua storia metabolica e quant'altro però quello che ti serve sapere è che anche se sei in menopausa puoi dimagrire cosa consiste il metodo è possibile saperlo durante queste dirette o devo parlare con la sua assistente allora ho spiegato dato che il mio metodo non è spiegato cioè non si può spiegare un metodo che ha rivoluzionato la vita di centinaia e centinaia di donne in 5 minuti ho fatto una diretta che magari trovi sulla pagina o che qualcuno ti metterà nei commenti in cui spiego come funziona il metodo FESPA nella pratica quindi c'è una diretta fatta qualche giorno fa in cui spiego appunto come funziona il metodo FESPA nella pratica e perché è l'unico metodo che ti consente di raggiungere la libertà alimentare di dimagrire e mantenere i risultati e la trovi sulla pagina sì dovrebbe essere sulla pagina magari qualcuno poi ti mette il link nei commenti così la puoi andare a rivedere oppure puoi parlare sì con una consulenza che ti spiegherà il tutto sulla voglia di dolce ecco stavo parlando di quello ti ho scritto su messenger io non gestisco messenger instagram le chat non me ne occupo io io non leggo i messaggi su messenger non ho tempo per leggere i messaggi su messenger già è tanto se su facebook nel gruppo ogni tanto sono attiva non gestisco io il mio profilo o meglio non sono l'unica a gestire il mio profilo quindi magari qualche assistente ti risponderà allora se avete domande fatele in diretta ok allora stavo dicendo sulla voglia di dolce stavo dicendo la continua voglia di dolce nasce dalle continue privazioni perché perché quando iniziate la classica dieta io adesso non sto qui a descrivervelo ok la classica dieta dieta che magari avete un coso così di diete quelle classiche diete lì allora quando voi seguite la dieta venite costrette a privarvi dei cibi che più vi piacciono quindi dovete salutare la pizza dovete salutare la pasta dovete salutare i dolci non potete mangiare più il cioccolato potete mangiare solo il cioccolato fondente al 90% l'85% che non è per nulla dolce e quant'altro e quindi vi ritrovate da un giorno all'altro catapultate in questa in queste giornate fatte di sempre gli stessi cibi sempre le stesse cotture sempre la stessa cosa ok quindi vi ritrovate che dovete rinunciare ai cibi che più vi piacciono quindi non potete mangiare il cioccolato la pasta la pizza eccetera e queste continue privazioni fanno sì che all'inizio voi vi sforzate quindi all'inizio a livello consapevole ok diciamo così a livello consapevole voi riuscite a non mangiare i cibi che più vi piacciono però nel momento in cui questa consapevolezza viene meno anzi più che consapevolezza perché è sbagliato parlare di consapevolezza in questo senso nel momento in cui togliete il pilota automatico vi spiego meglio altrimenti non si capisce allora voi dovete sapere che per il 95% del vostro tempo quindi praticamente tutta la giornata non siete voi che guidate la vostra vita ma è la vostra mente inconscia cioè fate delle azioni in modo automatico senza neanche rendervene conto e vi guida la vostra mente inconscia nella vostra mente inconscia ci sono le abitudini comportamenti i limiti le credenze ciò in cui credete come ad esempio chi crede che i carboidrati facciano ingrassare ok quella credenza è radicata all'interno della mente inconscia che cosa succede che quando iniziate questa maledetta dieta rigida la classica dieta consciamente vi sforzate di seguirla ma inconsciamente voi pensate ancora come una persona o meglio inconsciamente avete ancora tutte quelle cattive abitudini che vi portate dietro quindi il non avere un equilibrio alimentare il non sapere cosa mangiare il mangiare magari fuori pasto tutte queste abitudini che vi portate dietro e nel momento in cui dopo dieci giorni che seguite la dieta vi fate prendere un attimo dal vostro pilota automatico quindi dalla mente inconscia e iniziate a non essere più consapevoli o meglio a non sforzarvi più a livello conscio di quello che state facendo ecco che il pilota automatico arriva e vi fa tornare indietro vi fa tornare indietro sulle vostre abitudini quindi vi fa fare tutto quello che facevate prima e mangiare i dolci mangiare senza senza come si dice in porzioni esagerate insomma vi fa tornare indietro e le privazioni portano proprio a questo cioè le privazioni vi portano a fare delle azioni in modo conscio ma a livello inconscio desiderare che arrivi quel giorno che arrivi quel momento per mangiare quel maledetto cioccolato che vi è stato tolto o quella pizza che vi è stata tolta però facendovi trasportare poi dalle vostre vecchie abitudini non avendo un equilibrio alimentare non parlo di equilibrio psicologico ovviamente parlo di equilibrio alimentare quello che succede è che prese da un momento no prese dalla rabbia prese da tutto quello che volete vi mettete davanti il pacco di biscotti e lo finite tutto quindi le privazioni portano a questo cioè quello che voi avete con le diete rigide è proprio questo cioè la privazione che poi sfocia in una fame incontrollata che poi se vi fermate a riflettere è una fame mentale non è una fame di gola non è una fame di stomaco volevo dire cioè non è che avete i crampi allo stomaco semplicemente avete voglia di mangiare vi porta però ad avere questa fame incontrollata dentro di voi che cresce 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 e si appaga nel momento in cui vi finite tutto il pacco di biscotti quindi non io mi chiedo ogni volta a che pro cioè a cosa serve continuare a sottostare ad uno schema rigido a sottostare ad un bibitone se sapete anche voi che dopo tot giorni dopo tot settimane si torna a fare quello che facevate prima perché quando quello che bisogna fare quello che facciamo con il metodo FESPA è farvi cambiare le vostre abitudini alimentari senza stravolgere la vostra quotidianità quindi senza dover fare dieci cucine diverse senza dovervi alzare alle cinque del mattino per fare insomma prepararvi i passi allenarvi e quant'altro semplicemente cambiare le vostre abitudini alimentari farvi raggiungere la libertà alimentare nel vero senso della parola quindi farvi capire il come mangiare non il cosa perché il cosa mangiare siamo bravi tutti a dirvelo cioè tutti siamo bravi a dirvi guarda devi mangiare il pollo l'insalata i broccoli il tacchino tutti siamo bravi anche voi da sole potete mettervi e mangiate solo il petto di pollo ma solo il petto di pollo a parte che non è salutare perché insomma il petto di pollo sì per molti è dietetico ma come è stato allevato ha preso antibiotici da dove proviene il petto di pollo cosa c'è dentro il petto di pollo cioè sacco di domande che adesso non entro nei dettagli altrimenti non ne usciamo più devo anche bere tra l'altro ma se bevo perdo il filo del discorso quindi bevo dopo ma il punto non è cosa mangiare e di fatti con il metodo FESPA nessuno vi dice mangia il petto di pollo con il metodo FESPA ti vengono date le chiavi per autogestirti e camminare ovviamente in modo accompagnato mano nella mano verso la libertà alimentare quindi verso il come mangiare e il come gestirti in ogni occasione niente dietina rigida che non serve perché non si può vivere per sempre con uno schema cioccolato ciao Angela io sono in menopausa da 14 anni eppure ho perso 8 chili in 3 mesi con metodo FESPA esatto Svitlana esatto noi aspettiamo sempre la tua testimonianza ma sono pochi 3 chili in 3 mesi 8 chili in 3 mesi 8 chili in 3 mesi ma mamma mia questa storia che vi inculcano che guardate veramente in testa voi non vi rendete conto fin quando non siete all'interno del metodo FESPA non vi rendete conto della schifezza per non dire altro che avete nella testa con questa maledetta bilancia e quest'ossessione di dover per forza perdere tanti chili al mese non ce l'ho con te Angela o con Lori non ce l'ho con voi non siete le uniche però veramente questa ossessione di per forza un mese no si perdono 5 chili al mese 7 chili 8 chili 3 chili 2 chili ma il dimagrimento non si vede dalla bilancia ora Svitlana ha perso 8 chili in 3 mesi e li ha persi tra l'altro mangiando tutto anche durante le feste lei comunque ha mantenuto il peso ha perso centimetri nonostante le feste natale e quant'altro ma tralasciando ciò mettiamo da parte Svitlana allora io purtroppo non posso farvi vedere anzi non posso dirvi chi è e chi sono le donne che ci danno il consenso di pubblicare le loro foto perché vogliono restare anonime ma in particolare ci sono alcune che magari in un mese perdono 2 chili eppure e poi ce ne sono altre che ne perdono 4 ne perdono 5 ne perdono 6 proprio oggi ho visto il check di una donna che nel giro di se non sbaglio 3 settimane o 4 settimane non ricordo ha perso 7 chili mi sembra in un mese mi sembra non ricordo 7 chili in 4 settimane o in 3 settimane non mi ricordo ma il discorso è che non conta quanti chili perdi quello che conta è come cambia il tuo corpo perché ci sono donne che con le classiche dietine rigide perdono tanti chili ma perdono tanto tono muscolare e quindi sono flaccide e poi ci sono donne che perdono magari poco sulla bilancia relativamente poco ma il corpo la composizione corporea cambia totalmente perché? perché perdono grasso e non perdono il tono muscolare come succede con le classiche dieti o con i bibitoni ma soprattutto perdono centimetri e aumentano la massa muscolare che apro e chiusa parentesi massa muscolare e grasso hanno lo stesso peso cioè un chilo di grasso e un chilo di muscoli pesano uguale solo che uno occupa più volume e uno occupa meno volume ecco perché a volte ci sono delle donne che perdono magari due chili sulla bilancia ma hanno una composizione corporea che è come se avessero perso dieci chili per questo non vi fissate su questa bilancia io ogni volta vedo queste persone che noi in un mese si perdono tre chili no se ne perdono quattro no se ne perdono cinque no se ne perdono due no ma cos'è un chilo ma non importa anche perché dipende molto da quello che tu hai fatto in passato ci sono donne che in un mese perdono relativamente poco perché magari ne vengono da un passato di chetogeniche bibitoni sofferenze privazioni hanno una situazione metabolica che fa paura nel senso che è tragica e mi sentite aspettate un attimo un attimo ora mi sentite ora mi sentite non so cosa sia successo si è disabilitato il microfono non si sente non si sente non ti sento più mi sentite perfetto ora mi sentite questo facebook che dà un po' di problemi stavo dicendo ci sono donne che ci sono donne che hanno tutta una situazione metabolica distrutta per via delle diete che fanno disastrose dei bibitoni e quant'altro e devono essere prima prima si sistema l'assetto metabolico e soprattutto si fanno un attimo riprendere gli ormoni perché quando si fanno queste diete drastiche si hanno degli sbalzi anche a livello ormonale e gli sbalzi a livello ormonale possono anche essere la causa di un non più dimagrimento quindi prima si sistema tutto e poi insomma si ottengono i risultati magari all'inizio si è un po' più lente poi si va un po' più spedite però per favore poi fate quello che volete non basate un dimagrimento sulla bilancia perché le donne che perdono grasso con il metodo FESPA per tutte quelle che seguono il metodo FESPA perdono grasso non massa non tono muscolare e anche se la bilancia porta tre chili in meno otto chili in meno un chilo in più ad esempio il corpo è totalmente diverso e soprattutto non focalizzate tutta la vostra attenzione sul peso perché il dimagrimento non si vede da lì però purtroppo vi inculcano che il dimagrimento si vede sulla bilancia e quindi per anni vi hanno abituate al fatto che se non vedete il peso sulla bilancia scendere allora avete fatto le cattive e quindi allora dovete digiunare allora è colpa vostra e allora tutte quelle cose che poi vi inculcano poi entrate nel metodo FESPA e scoprite che si dimagrisce anche se la bilancia non scende di 20 chili in un mese e quant'altro se una piccola giusto una piccola parentesi anche se questo discorso è molto difficile da far capire a chi vive nella concezione di dieta e quant'altro ok sì adesso sì ora sì sono curiosa che cos'è allora Angela come ho detto prima c'è una diretta all'interno della quale spiego come funziona il metodo FESPA nella pratica però se insomma non non vuoi vedere la diretta anche se se non vuoi vedere la detta ai 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 parla con un consulente del team c'è il link da qualche parte non chiedermi dov'è perché non lo so da qualche parte dovrebbe essere in chat l'hanno fissato in alto nei commenti clicca sul link parla con un consulente che ti spiega tutto allora mi sono proprio convinta che non c'entra solo la bilancia esatto Svitlana ma tu tra l'altro l'hai visto sul tuo corpo e la bilancia non c'entra sei un mito è proprio così grande Sandra mi raccomando mi raccomando che con il cibo e la bilancia mi raccomando non focalizzarti né sul cibo né sulla bilancia la bilancia conta ma non ha tutta quell'importanza che viene data dalle persone perché è vero che una persona che ha un peso importante una persona che pesa ad esempio 100 kg è normale che il lago della bilancia scende perché ovviamente una persona che pesa 100 kg ed è alta 1 metro e 60 quindi è obesa è normale che il lago della bilancia scende però il dimagrimento non si vede solo da lì perché c'è la convinzione c'è la falsa credenza che quando ci si pesa sulla bilancia i chili che si vedono sono sono di grasso cioè una persona sale sulla bilancia pesa 50 kg sono 50 kg di grasso ma in realtà non è così perché ovviamente non siamo composti da grasso cioè il nostro corpo non è composto da grasso solo da grasso il nostro corpo è composto da massa magra massa grassa liquidi organi tessuti tutto questo insieme questo deve esservi chiaro perché altrimenti quando salite sulla bilancia dopo aver mangiato una pizza o dopo aver mangiato un qualcosa di più calorico o di più salato o di più condito vi ritrovate che il vostro stato d'animo dipende da quel chilo in più che vedete sulla bilancia perché pensate che sia grasso ma in realtà non è così ok allora quindi questa diretta è partita con il cioccolato fondente e siamo finiti a parlare di bilancia non c'è niente da fare la bilancia è sempre presente parliamo sempre di questa maledetta bilancia che influenza gli animi di tutte voi fate come me io non ho una bilancia io non mi peso io sono rientrata in Italia allora a marzo 2021 sono fuggita alle Canarie a Fuerteventura ad agosto sono tornata in Italia per cinque giorni dove avevo la bilancia dopo sei mesi fuori fuori casa fuori dall'Italia mi sono pesata non ricordo il peso perché ormai sono passati mesi non ricordo ma mi sono pesata per sfizio ma in realtà non ricordo neanche se mi sono pesata lo sapete vabbè non lo so comunque il 31 agosto il 30 agosto agosto quanti giorni è 30 o 31 non ricordo mi sembra 31 agosto vorrei dire una bagianata ma la stanchezza che si fa sentire mezzanotte e cinque da me vabbè ad agosto fine agosto sono arrivata qui a Dubai dove vivo da mesi 5 mesi che vivo qui io in realtà non si sono cinque mesi non so neanche il mio peso e neanche mi interessa perché i miglioramenti li vedo allo specchio li vedo nei vestiti li vedo nei centimetri me lo sento perché parliamoci chiaro quando una persona si prende cura di sé quando una persona segue una determinata alimentazione che poi in realtà è uno stile di vita non è un'alimentazione si allena correttamente e fa le cose come si deve onestamente si sente bene quando invece una persona segue le classiche diete non sa che sta facendo e vive nel circolo vizioso della fame nervosa eccetera 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 è normale che non si sente bene con se stessa si sente pesante e non si sente neanche a proprio agio nei vestiti ma non c'è bisogno di star lì a pesarsi perché i miglioramenti non si vedono da lì vabbè comunque all'interno di questa diretta abbiamo parlato di tutto abbiamo parlato di cioccolato fondente avete capito perché in realtà potete mangiare anche il cioccolato bianco senza prediligere necessariamente il cioccolato fondente sicuramente il cioccolato fondente apporta meno zuccheri ma apporta più grassi per via del burro di cacao che viene aggiunto quindi più è alta la percentuale di cacao maggiore sarà l'apporto di grassi rispetto al cioccolato al latte e al cioccolato bianco quindi sfatiamo il mito che il cioccolato fondente è dietetico non è dietetico non fa dimagrire e insomma potete tranquillamente mangiare il cioccolato che più vi piace che sia quello con le nocciole che sia quello al peperoncino quello che più vi piace l'importante è fare attenzione a quanto ne mangiate e a non esagerare non finire la barretta di cioccolato non terminare due barrette di cioccolato al giorno quello è il punto detto ciò io vi saluto ci vediamo nella prossima diretta che probabilmente sarà domenica non lo so vi aggiorno all'interno del gruppo Guerriere Informa e vi ricordo l'offerta sul protocollo Guerriere Avincente il nostro percorso di rieducazione alimentare online coaching valida fino al 18 gennaio c'è il link da qualche parte per parlare con il consulente la consulente che vi darà tutte le informazioni ci vediamo nella prossima diretta ciao a tutte grazie a tutti